e si perché così c'è una fischette piene bravo che che stratera è vero sto mangiando caramel biscuit non vuole essere una pubblicità questo è la versione wish dei twix ok ho capito ma qua dietro in questa tomba qua c'è qualcosa no non è la scendi la scendi da un'altra posizione quello lo so ma non sapevo se c'era qualcosa da prendere in quella tomba no no non c'è niente è una falena la rocco sta attento state attenti voi scusa il muretto qua come mai si è già fatta male è l'ho fatta male io prima a dici quello sento attento io il mago ma tranquillo signor ma con le sta facendo una mago guarda signor mago cosa ha fatto bravo signor mago io io sono stato io morto lascia stare i cosi di fango che ecco lascia stare vieni via non hanno sanguinamento con dei pezzi di fango andiamo andiamo bello andiamo a scendere ma qua dove ci sono le formiche e c'è una formica formiconi e belle che sono le formiche premi i b premi i b che dai la culata ti scendi di culo che cazzo sei di ah no quello è super non la fai sarebbe stato bello però diamo un sacco di runea ora è di qua no 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 indietro 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 no 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 seguo l'acqua si benvenuti in grounded ragazzi si esatto morti ok siamo arrivati qua ah ho un vago ricordo di questo posto ma solo vago dico quasi finito l'acqua ragazzi bene l'ultima goccia per dopo è arrivati a una stella ok andiamo a prendere la grazia devi parlare con rani devi buttarci fuori turna ma di nuovo ma qua devo parlarci si no tranquilli ma quello è successo già 20 minuti fa vieni va Renato 0 preferisci la strada sopraelevata o la strada che segue il fiume? uguale ancora più corta più corta era quella sotto ma andai di correre ok però se facciamo la strada sopra se facciamo la strada sopra ti becchi un seme alla fine andiamo quella sopra dai però quella sopra non serve un cazzo eh sì ti prendi gli oggetti le pietre funerie e basta oh merda hai finito di scappare ma come se la scappa la pigliacca sei una pigliacca queste muoiono da sole che coglione aspetta uccidere anche le altre oh via 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 e dove sono io vado a vedere attento che ci sono i blocchi scudi si arriveranno da sopra figurati eeeh vaffanculo è preso? una cosa del genere andiamo dai una aurea ragazzi una aurea un'altra runa aurea un sacco di rune auree allora di qua rocco vuoi usare la spada? ce l'hai una? però non c'è tanta roba dentro vabbè che se ne frega qua ci sono qua ci ho fatto entrare minchia non posso fare niente porca vacca ma quanto mi sta sulle spalle che rimane la scritta lì sotto si si esatto e non puoi fare un cacchio ok qua andiamo qui ragazzi c'è una piglia che fa veramente male beh ma la uccidiamo? si si che ce frega io l'ho uccisa quando ero dentro lì dove eravamo adesso così lei non può venire dentro guarda vento rocco e questa accelera di brutto aspetta 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 guarda come va giù guarda come la va giù andata vai 3 ti facciai qui non so se c'era un oggetto prima di darla ok ma semplicemente cadono dal soffitto così no sicuramente si cadeva la piglia la piglia la piglia grande con valare spettare tanto mentre rocco prende cosa tutto spiano noi lo proteggiamo eh si per forza eh che dovevi fa io non so dove sto andando ma sicuramente non devo andare di qua no no è giusto è giusto è giusto è giusto ah dove sei no è giusto è giusto no perché io so si che sta facendo giusto io sono andata a farmi i cazzi miei come sempre esatto poi uccidete tutti che figo un sacco di rune auree ci sono ragazzi no è bello sto posto bello non c'è niente non c'è niente qua dentro questa chiesa si 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 però ci sono anche le monnezze qua no mi uccidono ragazzi sono quasi morti attento che c'è una trappola ok ok vai via vai via io sono lontano ragazzi è bene ok meravigliore dovevamo andare però poi su di qua non c'è nulla si c'è l'ascensore puoi prescendere l'ascensore puoi prescendere adesso ehi tu dove vai e la pietra da forgiatura ragazzi posso iniziare a forgiare un po' di ro potenziare un po' di roba di nuovo credo spero ma c'è occio qua c'è c'è pezzi di merda ci sono esatto io faccio fuori la succeduta in sacco e c'erano qui non te però oh ma non ci credono per la cosa purtroppo ce ne va ci ha lasciati nocco stai un po' indietro si si stai dietro cazzo mi faccio fotta l'adesso vado a riprendermi le rune e me ne vado e sono partiti tutto perché prima lori si non ha fatto un cazzo sono morto ero dietro che si faceva i cazzi suoi e sono morto e invece adesso te li ho manciottati eh allora potevi farlo prima così non perdavamo tempo luna di nox stella mi dici neanche grazie cosa è la luna di nox stella è un amuletto praticamente aumenta un incantesimo incantesimo attimo attimo che io ragazzi ho aumenta l'intelligenza così a caso vai andiamo dove dobbiamo andare così a caso sei più intelligente 3x3 3x3 6 9 3x3 3x3 e adesso è un mandala questo vedi arena adesso prendi seme qua c'è la la tipa gigantesca sul trono da qualche parte dove bisogna andare adesso bisogna scendere di qua dobbiamo scendere sì vedi là dove c'è quella torre con l'arco dove c'è le statue che vedi qua di qua di qua ok dentro ci sono le formiche con mazzini bene bene saltiamo tutto e via giù mi hanno seguito la sera di nuovo giù mazzola quanto si scende guarda come la formica è ancora in testa sta facendo di merda bene c'è ancora il rischio ok adesso devi buttarci fuori di nuovo madonna tanta che poi non ho capito se questa cosa qua che ogni volta devi parlare con ranni sia obbligatoria oppure sono consigliata non ho capito capito ma non c'era prima se ci sei ok dove dobbiamo andare adesso è detto qua attento che ci sono le rane quelle che sputano nebbia ah quelle sono pericolose ok me le ricordo bastarde queste il dark souls erano i dritti stilessi scappa scappa e via dritto capisco un cazzo non capisco è qui no aspetta c'erano degli oggetti da prendere per cui aspetta ok riuscito stavate uccidendo ragazzi e tra la forgiatura ovunque e ora sono cazze ok e ora sono cazze qua c'è lui eh sì è un braffunista mert voi ci siete ci siamo qua occhio occhio che questo picchia non curarti no bravo radigo è entrato sanguinamento no 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 che cosa mi ha fatto che cosa mi ha fatto andato andato perché perdevo tutto con la vita che cosa mi ha fatto iso è iso è un figo è stato lì immobile guarda 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 che che charme guarda che ha visto i disegnini per terra che cazzo fai 1 2 3 la campana sai che salta 1 2 3 la campana è in modo di ucciderti i nemici così tu nel frattempo sono attivi ok ho preso una chiave perfetto quella chiave adesso ti serve per ti ricordi quel scrigno che era chiuso da renala no devi andare da renala in poche parole non so neanche dove a renala renala quella che abbiamo quella che che farà la onda energetica era ah si ok 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 devi andare bene ma mi serve per la quest di ranni? si ok adesso qua dove andiamo? un luogo bellissimo qui è dove c'è tutto avvelenato? ah che palle quindi io direi di fare così Rocco dimmi vai ti butti fuori vai col teletrasporto da renala apri quel scrigno ok vieni di qua di nuovo che hai sbloccato la grazia non so se devi parlare con ranni di nuovo o cosa penso di no ti ricarichi bene le ampolle e poi ci evochi però c'era quello lì con la luna nera davanti che era bellissimo non mi ricordo dove l'avevo preso quello era proprio figo ok allora chiedo scudo venite qua con me chiedo scudo chiedo scudo venite qua con me andiamo andiamo allora prima di qua mappa del lago tri e scende ok adesso qua aspettiamo mezz'ora ok perfetto eh no io sono già eh già allora allora corriamo allora vieni qua via 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 vieni qua lascia stare le rane dica no io non ci arrivo ragazzi quante cose hai tanto attivati questi bene poi rimangono attivati sì 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 vieni qua sì sì quante cose hai quante voce hai ne ho ancora cinque oh la magia cazzo deve andare dritto la se riesci ok mi ricordo che c'era qualcosa qua però vero c'era una grazia sì 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 qua 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 c'è la grazia dai che ce la puoi fare sei tutti noi dai Rocco sì no ma ce la faccio solo che non mi ricordo ah è la miseria qua qua avanti e dritto avanti e dritto avanti e dritto ci sei ci sei ci sei dai vediamoli grandissimo me la ricordo questa zona questa zona qua me la ricordo benissimo allora vedi dove c'è la cascata Rocco sì ok sotto là e là fuori un verme c'è un verme un dragone quello stupido e ti dà un seme però vedi tu se vuoi farlo se lo facciamo se no andiamo avanti e dobbiamo andare giù da giù praticamente e c'è una bara dove ci lanciamo giù da una cascata dove andrai dentro ok ok che evoca no nessuno stavo guardando una cape ah dimmi quando sono morto dobbiamo scendere no qua che vede le palle che saranno tosti questi no va bene la rifamo z la formica mi ha fatto il culo qua ok qua cosa c'era un oggetto un'altra runa aurea per dieci ragazzi ok ok andai a riprendere le mie rune non ci ho perse troppe ok 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 vieni a puoi qua andiamo spettate un attimo però va ah quelli non ti farò niente cioè se stanno ok ok l'esperienza gratis vai vai ok ovico aspettate perché tanto loro non mi sentono arrivare e queste magie qua non fanno rumore ho fatto al culo non ho visto questo bravo ehi ma non ce ne mi ricordo per cercare ma c'era qualcosa di buono forse è un kinder bueno buono vediamo un po' togo un kinder buono c'è un'arma forse quella vediamo un po' che cos'è ragazzi è un'arma vero oh hai da marciscienza scarlatta uh si 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 mi ricordavo mi ricordavo da culo si è una vera merda mi sembrava figo a culo dello scroppirano si 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 è una vera merda dai come siete cattivi però devi andare dentro su quella barra là Rocco andua questa questa barra è tv eh questa te la ricordi dai Rocco è iconica questa scena devo proprio entrare vero? ah si devi proprio entrarci si entra nel targo con Ipsion ma noi ci vediamo la scena eh si vediamo tutta la scena ho preso la marciscienza ho preso eh tranquillo che c'è una grazia giù nel frattempo l'ho presa ah ma la prendi subito eh appena tieniti porca vacca e viaggio ma bene che questa è fatta adesso siamo qua siamo tutti assieme spero eh guardo lì come salta fuori mamma mia è proprio brutto sto elmo ragazzi bene adesso muoio eh eh ma abbiamo il mago il nostro asso della manica eccoci qua cazzo vediamo buono e grazie grazie per essere qui io come promesso sto morendo la grazia ah no è dentro la grazia scusero così chiaro porco boia me lo ricordo sto pezzo oh madonna ci metteremo una vita sì anche perché io sto morendo e infatti come faccio io a farla che curo ma devi evitare io lo sono evitato di bruciare io devo cercare di sconfiggere la marciscienza sconfiggere la marciscienza sconfiggere la marciscienza sconfiggere la marciscienza ho cercato di darvi il tempo possibile ragazzi sono arrivati a metà poco più di metà ma c'era stato di marica però bene 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 adesso forse possiamo andare vado vai e vado 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 poi finitela questa di ragno o ancora oi l'altro po' manca ma abbiamo finito quasi mancata vado aia ha preso me porca ha preso me sono morto però è tutto lì dentro no non puoi non puoi mettere il dito qua io no non te lo puoi mettere infatti no è un brodo qua per tanto morirete brutti sicuramente morirete male non è che tu c'è nel nostro che mi interessa l'ha proprio tana bastarda che cartella visto cioè con quella di james sì ma 2 ha fatto il zero eh vabbè ha fatto il colpo del cazzo è staccato che è brutto è arrivato a metà no non va troverò dai mago la porca vacca è la dai mago mi raccomando fa di nuovo prendere ma va fa un brodo va è morto sono però 1 però è morto ehi ai james mi se la sei rischiata non dammi il culo no occhio vediamo se riesco a storbirlo forse ne va niente devo arrivare da dietro adesso sto ridirlo con questa magia no ma vaffan brodo ma massimo mentre stavo applicando la caschetta dai che ce l'ha fatto dai che ce l'ha fatto via 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 ma nessuno si sopravvive Mangia Entra! Non sono stato io, non sono stato io Fa' il culo No, scappo, scappo, scappo Ehi, ci sto provando Stengo occupato S**tana Ok, scappate Vabbè, dai, non ha preso nessuno, se non male Occhio nel metoditi Questo, va via Ok Ok Dai che manca un mio attacco Vai, vai, vai Dai, muori Muori merda, muori Grandi, bravi Bravo Iso, grazie Attento Rimembrarsi della progenie Santamirarone Cosa devo fare adesso? Ora vai in fondo alla strada Adesso è venne sparita È da là? Sì 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 Sì